Cosa vi chiede Gesù? 27 maggio 1977. Figli miei, ecco, sono qui a pregare con voi per avvalorare la vostra preghiera, e per ottenervi aiuti e grazie a non finire. Sono la madre di Gesù e madre vostra, e chi più di me è desiderosa del vostro bene. Ogni mamma vorrebbe per i propri figli costruire un palazzo e metterci tutti i beni della terra. Purtroppo le possibilità delle mamme terrene sono poche, e devono limitarsi a fare quel poco che possono. Io sono una mamma onnipotente per grazia, e tutto ciò che i miei figli mi chiedono per il loro maggior bene in relazione alla salvezza eterna, io posso concederlo. Ecco perché vi invito a mettere come intenzione, a queste preghiere comunitarie che fate e che farete in mia compagnia, anzitutto la salvezza delle anime. Oggi voi avete avuto una chiamata particolare. Il mio Gesù ed io vi abbiamo voluti qui, perché abbiamo qualche cosa da dirvi. Un giorno Gesù chiese a Pietro, Pietro, mi ami tu? Egli rivolse questa domanda per ben tre volte. Oggi, noi vogliamo rivolgere la stessa domanda a ciascuno di voi. Voi risponderete che amate me e amate il mio figlio, ed io vi dirò, se mi amate, dovete imitarmi. Se amate il mio Gesù, dovete fare ciò che Egli desidera da voi. In che cosa mi imiterete? Ecco, figli, venite con me nel Cenacolo, dove io andai con gli Apostoli e con alcuni discepoli in attesa dello Spirito Santo. Che cosa si faceva? Si pregava, e si pregava bene. Questo dovete fare per imitarmi. Dovete dare alla preghiera una particolare importanza, e insegnare a tutti coloro che vivono vicino a voi, come si deve pregare. Desidero che la vostra preghiera sia umile e raccolta, proprio come quella che noi facemmo nel Cenacolo. Da questa preghiera deriveranno beni immensi, ma soprattutto la luce dello Spirito Santo, che deve alimentare, fortificare e fecondare la vostra vita spirituale. Ma qui c'è anche Gesù, che in risposta dell'amore che dichiarate di avere per Lui, vi chiede di fare ciò che Lui vuole. Che cosa vi chiede? Che abbiate ad amarvi vicendevolmente per poter fare del bene. Dove c'è amore, c'è Dio. Ecco come potete portare il Signore nel mondo, amando tutti. Il primo passo lo dovete fare in famiglia, dove dovete essere pronti a sacrificarvi per gli altri, e dove dovete essere portatori di pace. Poi, dovete estendere la vostra azione fra amici e parenti. Non potrete dire d'amare Gesù, se escluderete dal vostro affetto qualcuno. Non potrete dire che vi sono persone a voi antipatiche o cattive, che non volete amare, perché queste persone sono miei figli, e sono fratelli di Gesù, per i quali, Egli è morto sulla croce. Dovete allargare il vostro amore fino ad imitare Gesù, che amò anche coloro che l'avevano messo in croce. Amare significa anche perdonare. Vi sono molte persone che pensano di essere buone, mentre covano nel loro cuore rancori, invidie e odio. Costoro non potranno mai dire di amare Gesù, e non saranno nemmeno in grado di ottenere da Lui il perdono delle loro colpe. Quale situazione difficile si crea tra l'anima che non sa amare e perdonare e Gesù, che sarà giudice severo ed inesorabile. Così, facendo quanto vi ho detto in questo nostro incontro, meriterete che io vi allarghi le mie braccia per accogliervi e portarvi al Mio Figlio Divino. Ora vi benedico tutti ad uno ad uno. Benedico le mamme, a cui darò grazie speciali e i bambini, che guiderò e proteggerò.